La salvezza è assolutamente la cosa più importante della vita. Gesù dice che giova all'uomo se guadagna il mondo intero e perde la sua anima. Come si arriva alla salvezza? Non si arriva seguendo i comandamenti di Dio. Assolutamente nessuno potrebbe perché la Bibbia dice che se uno manca in una cosa sola è maledetta. Se uno una volta in tutta la vita manca una volta è maledetta. Allora abbiamo bisogno di un Salvatore e si arriva non seguendo i comandamenti, si arriva per mezzo della fede in Gesù Cristo. Quindi serve conoscere Cristo. Non posso credere. È non solo una cosa iniziale, un cammino. Se non conosco, non posso fidarmi di chi non conosco. Tutti gli epistoli della Bibbia, allora gli Evangeli parlano di Gesù quando era sulla terra fino alla morte e alla risurrezione. Poi le epistole aggiungono tantissimi fatti in più che Gesù aveva detto in Giovanni 16 ai suoi apostoli. Ho altre cose da dirvi. Non sono ancora alla vostra portata. Ma quando sarò tornato in cielo avremo mandato lo Spirito Santo e lì vi insegnerà le cose che ancora non siete pronti. Le epistole sono quelle cose. Quindi le epistole ci danno la pienezza dell'insegnamento su Gesù Cristo. Allora c'è una epistola soprattutto che parla più di Cristo di tutte le altre epistole. Romani non parla tantissimo di Cristo, parla di che cos'è la salvezza, la giustificazione per fede. Altre epistole, primo corinzi, tanti aspetti della vita cristiana, sempre con verità di Cristo in mezzo. Ma c'è una epistola più di tutte le altre che proprio parla di Cristo. Ci sono pochissimi comandamenti, qualcuno, ma è più insegnarci chi è Cristo. Quale epistola è quella? Ebrei. Ebrei. Questo è epistola, alcuni dicono che è un po' difficile, no, se ti fermi a vedere cos'è, non è difficile, è ricca. Come epistola, è ricchissima. L'epistola agli ebrei confronta Gesù Cristo con la religione, ma non le religioni del mondo, no. Con la religione stabilita da Dio. La Bibbia non confronta Cristo con le false religioni, sono false. Ma L'ebrei fu scritto a giudei che seguivano l'unica religione, oltre al cristianesimo vero, stabilita da Dio. Islam non fu stabilita da Dio, induismo no, shinto no, solo i giudei. Dio ha scelto Abramo, Abramo all'epoca, dopo gli ha dato il nome Abramo, come padre di una nazione. Non aveva figli. Ma Dio ha detto, io, da te, dal tuo semi crescerà una nazione. Poi Dio ha preso i figli di Giacobbe, i dodici figli, li ha portati in Egitto, miracolosamente gestendo le cose, avendo mandato Giuseppe lì come schiavo, tutto quanto, conoscete la storia. Li ha fatto crescere lì, poi li ha portati fuori dall'Egitto, alla terra promessa, dando a loro la legge a Montessina e facendo loro il suo popolo, in modo ufficiale. ha dato loro la legge, si chiama quello la legge di Mosè, e ha i sacrimenti, i sacrifici, tutto. Ok? Quella è la religione stavolita da Dio. Il problema è che c'erano questi giudei che volevano ancora seguire la legge, ma in Cristo non siamo sotto la legge a Mosè. Quello legge, come leggeremo in Colossesi, era un'ombra, era un'ombra della verità. Allora, non so qui, non c'è un granché di ombra qui, quindi non si vede, ma quando c'è un'ombra, si vede qualcosa, qui non c'è un buon'ombra, ma si vede la forma, ma non vedi i dettagli. Tu vedi, è una mano, ma tu non vedi, è una mano di un giovane, di un vecchio, non vedi una persona bianca, una persona nera, non vedi. Tu vedi la forma, ma non riesci, non vedi se è una mano con dei tagli, o se è una mano liscia o ruvido. Tu vedi che è la mano. Quindi vedi che è una mano, ma non vedi chiaro. E in Colossesi dice che la legge era l'ombra, ma Cristo è il corpo. Cristo è il corpo. Questo è importantissimo. Quindi, questa epistola fu scritta a tre gruppi di ebrei. Tre gruppi. E se tu capisci questo, aiuta tanto certi brani difficili. Fu scritto prima a dei giudei che avevano creduto in Gesù Cristo. Quindi erano giudei di sangue, ma avevano creduto in Gesù Cristo. E quando Paolo, l'autore, non sappiamo chi sia, a volte parla in un modo e dice, chi, coloro, che, questo, questo, ma di voi siamo persuasi di altre cose. Quindi tu, lui parla di terza persona, ma loro che, parla di quello che negano tutto, ma di voi siamo convinti di cose pertenenti alla salvezza. Quindi tu dici, oh, sta parlando di... Quindi un gruppo credevano in Gesù. Un altro gruppo si stavano avvicinando a Gesù. Hanno detto, lui è il Cristo Messia, ma non avevano ancora aggrappato Cristo come il loro Signore e Salvatore. Poi c'erano un terzo gruppo che restava lontano, guardando a Cristo da lontano, ma non avvicinandosi. Essendo questi tre gruppi, ebrei, tutti i tre gruppi, avevano una tendenza, chi di più chi di meno, ad innalzare aspetti della religione, religione che Dio aveva stabilito, giudaismo. Ma quello che l'autore dimostra, guidato dallo Spirito di Dio, è no, tutto quello serviva, non serve più, Cristo è superiore. Smettete di aggrapparvi a quello, aggrappatevi al corpo. Erano ombre. E poi lui menzionerà angeli, i sacrifici, il sacerdozio, menzionerà tutti i vari aspetti della legge giudaica. Cristo è il cuore. Aggrappatevi totalmente a Cristo. Quindi questa pistola non confronta Cristo con le false religioni ricordate quello perché Dio. Non sono false. Ma il giudaismo non era falso, era da Dio. Dio ha dato la legge a Mosè. Ma nel Nuovo Testamento più volte dice noi non siamo sotto la legge. Paolo insegna questo. Noi possiamo mangiare maiale. No? Ha detto però se io vado con i giudei non mangio. Io mi metto sotto la legge mentre sono con loro. Con i gentili vivo senza la legge di Mosè ma sono sempre sotto la legge di Cristo. Quindi lui dice per non offendere loro. Per non offendere loro. E quindi in Colossesi voglio leggervi Colossesi 2, 16, 17 parlando di i credenti dove questi giudei venivano a loro per criticarli che non seguivano più le regole di cibi stabilite al tempo di Mosè e le feste giudaiche nove luni cioè i giudei seguivano in base alla luna e i sabati tutti i robi che riguardavano la legge data a Mosè e leggo Colossesi 2, 16, 17 nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste o a nove luni o ai sabati queste cose sono ombra di quelle che devono venire ma il corpo è di Cristo. Nessuno dunque vi giudichi nessuno vi condanna eh ma tu non osservi le feste tu non segui le leggi del suo cibo tu non segui il sabato nessuno vi giudichi perché era un'ombra ma adesso c'è il corpo non aggrappatevi più all'ombra aggrappatevi al corpo che è Cristo. Allora i credenti Colossesi di Colossesi Colossesi non osservavano quelle regole e questi giudei venivano criticandoli e Paolo lì guidato da Dio sempre diceva no non lasciarvi giudicare di quelle cose tutti quei regolamenti dovevano spingerci a Cristo tutto per esempio i giudei non dovevano mischiare due tipi di stoffa potevano usare o questo o quello ma non insieme per adesso possiamo ma era un simbolo che non dobbiamo noi credenti così dice in 1 Corinti 7 o 2 Corinti no 1 quando dice di non mettetevi sotto un gioco con i non credenti quindi per esempio no quindi quello legge sulla stoffa rappresenta la vita ok e i sacrifici tutti quei sacrifici gli animali indicavano ebrei insegnerà questo in avanti non arriviamo mica stasera però erano tutti simboli di Cristo l'arca di Noè rappresentava l'unica salvezza in Cristo chi chiudeva la porta dell'arca Dio la Bibbia dice che entrarono Noè i suoi figli le mogli e Dio ha chiuso la porta non è che loro hanno tirato Dio ha chiuso e solo chi era nell'arca fu salvato e quindi quindi questa pistola serviva per questi giudei tra i gruppi di capire allora non dobbiamo più aggrapparci alla nostra religione no perché la vostra religione fu data da Dio per preparare il mondo per Cristo ma Cristo è arrivato Cristo è arrivato non è la stessa cosa non è la stessa cosa ma in un certo senso un padre prepara la figlia per il marito in un certo senso un padre e se non c'è padre nella vita può essere un nonno un grosso fatto prepara la figlia per il marito infatti lei impara cosa vuol dire essere amata curata protetta guidata e così quando si sposa dice ecco questo era quello per cui mi stava preparando adesso ha senso e così giudaismo preparava il mondo per Cristo 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 è tutto in tutto noi non siamo giudei magari non siamo attaccati agli aspetti religiosi dei giudei però in realtà questo libro è molto importante per noi perché ci ha detto vedere quanto Cristo è tutto in tutto per darci più fede in Lui ci fa vedere la sua gloria la sua opera la sua persona è una cosa importante di Ebrei ci aiuta a capire che la vita cristiana non è una serie di comandamenti che bisogna fare questo questo e quello la vita cristiana è avere Cristo essere attaccato a Cristo aggrapparmi a Cristo per la salvezza perché Lui ha compiuto una volta per sempre il sacrificio in capitoli 7 e 9 che è stato offerto una volta per sempre non si può ripetere il suo sacrificio perché era perfetto e salva appieno coloro che si avvicinano a Dio per mezzo di Lui dirà quello e quindi questo libro ci spinge a vedere Cristo ci spinge a vedere Cristo e Lui è il nostro sommersaggio sacerdote questo libro dimostra che in capitolo 4 noi abbiamo un grande mega sommersaggio dote è la parola vera sommersaggio dote e che tramite Lui possiamo avvicinarci al trono della grazia per ottenere aiuto e essere soccorso al momento opportuno libero accesso libero accesso a Dio stesso per mezzo di Cristo quindi Cristo è tutto allora in questo libro l'autore confronta Cristo con tutti gli aspetti principali del giudaismo c'è questo aspetto confronto Cristo con quello c'è quell'aspetto Cristo con quello c'è quell'aspetto Cristo con quello e mostra che è superiore la parola migliore troviamo otto volte in questo epistola Cristo è migliore è migliore è migliore il suo sangue è migliore del sangue degli animali tutto è migliore in Cristo allora capire questo perfettamente intellettualmente non ci dove nulla è solo quando facciamo di questa verità di chi è Cristo la base della nostra vita è la nostra fede ogni giorno che ci darà la forza la pace e la gioia di vivere la vita in Cristo non è una dottrina da sapere è una verità a cui aggrapparci quindi quello che voglio fare è iniziare stasera a parlare di questo libro guarderemo capitolo 1 però voglio avviarvi a guardare tutto il libro capendo cosa state leggendo è un libro meraviglioso quindi voglio leggere capitolo 1 trovate ebrei capitolo 1 leggo tutto capitolo e poi guardiamo un po' il contenuto Dio dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profetti in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio che egli ha costituito erede di tutte le cose per mezzo del quale ha anche fatto l'universo egli che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di sé stesso si è posto sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli ed è diventato tanto più superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che egli ha ereditato infatti a quali degli angeli disse mai tu sei mio figlio oggi ti ho generato e di nuovo io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio e ancora quando introduce il primo genito nel mondo dice e lo adorino tutti gli angeli di Dio ma degli angeli dice dei suoi angeli fa dei venti e dei suoi ministri una fiamma di fuoco del figlio invece dice oh Dio il tuo trono è per i secoli dei secoli lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia tu hai amato la giustizia e odiato l'iniquità perciò Dio il tuo Dio ti ha unto con olio di letizia al di sopra dei tuoi compagni e ancora tu oh Signore nel principio fondasti la terra e i cieli sono opere delle tue mani essi pereranno ma tu rimani invecchieranno tutti come un vestito e li avvolgerai come un mantello e saranno cambiati ma tu sei lo stesso e i tuoi anni non verranno mai meno e a quali degli angeli disse Elimai siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come scabello dei tuoi piedi non sono essi tutti spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza questo è uno forse il brano più concentrato parlando di chi è Gesù Cristo certamente in questo capitolo sta dimostrando che Gesù è assolutamente superiore agli angeli in ogni senso allora è importante capire gli angeli sono più potenti degli uomini e stra più potenti degli uomini quando gli uomini vedono angeli nella Bibbia di solito avevano terrore a volte gli angeli si travestono proprio da uomini ma quando appaiono come angeli gli uomini hanno grande timore leggo in Luca l'Evangelo di Luca gli angeli annunciano la nascita di Gesù ai pastori nei campi e leggo quello Luca 2 8-9 ora in quella stessa ragione c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto nei campi e di notte facevano la guardia al loro greggio ed ecco un angelo del Signore si presentò loro e la gloria del Signore risplendette intorno a loro ed essi furono presi da grande paura angeli sono molto più grandi potenti degli uomini rispecchiano la gloria di Dio anche nell'antico testamento gli angeli sono stati mandati dal Signore a parlare con gli uomini di Dio e si vede che hanno poteri più grandi degli uomini hanno forza e capacità stanno alcuni nella presenza di Dio proprio nella presenza di Dio che gli uomini no quindi è certo è naturale che gli uomini trovano un certo fascino per gli angeli ma non è da Dio la Bibbia non ci insegna mai di incuriosirci e mai pregare agli angeli no questo capitolo fa il contrario dimostra sentite avete visto che gli angeli sono potenti non sono nulla in confronto con Cristo Cristo è assolutamente superiore a loro e poi all'inizio abbiamo letto che nell'antico testamento ai padri Dio ha parlato in svariati modi Dio ha parlato agli uomini dall'antico testamento in vari modi spesso tramite angeli a volte rivelazione diretta e altri modi ma adesso ha parlato tramite Gesù Cristo la parola la piena rivelazione di Dio notate versetti 2 a 4 che Gesù viene riscritto come Dio glorioso pieno di gloria divinità piena leggo in questi ultimi giorni ha parlato noi per mezzo di suo figlio che egli ha costituito erede di tutte le cose per mezzo del quale ha anche fatto l'universo egli quello è il figlio egli che è lo splendore della sua gloria la gloria del padre è l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza quello del figlio dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di sé stesso si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che egli ha ereditato questa è una descrizione di divinità dice qui per esempio che ha fatto l'universo in Genesi 1 impariamo che Dio ha fatto l'universo qui il figlio ha fatto l'universo perché è Dio sostiene tutte le cose tutta la creazione noi tutto materia vita tutto sostenuto da Cristo dipende da Cristo Colossesi vi leggo io Colossesi 1 15 17 parlo di quello vi leggo di Cristo in Colossesi 1 15 17 anche qui parlo di Lui come divino dice Egli è l'immagine dell'invisibile Dio il primo genito di ogni creatura poiché in Lui sono state create tutte le cose quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra le cose visibili e quelle invisibili sia troni o signorie o principati o potestà tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui tutto è stato creato da Cristo per Cristo e tutto e tutto sussiste in Cristo vuol dire che gli atomi sono fatti di elettroni no? ma e nuclei tutto protoni tutto sussiste in Cristo tutto tutto Gesù Cristo figlio di Dio è il creatore di tutto e tutto esiste per Lui poi abbiamo letto in ebrei che Gesù è erede di tutto tutto appartiene a Lui Egli è il sovrano su tutto e il Signore dei Signori leggiamo altrove e poi abbiamo letto in versetto 3 in ebrei che Gesù è lo splendore della gloria di Dio lo splendore della gloria in più che è l'impronta della sua essenza questo descrive Gesù Dio dice più volte che non condivide la sua gloria con nessuno Dio non condivide la sua gloria ma Gesù Cristo è lo splendore della gloria di Dio Padre è lo splendore è la luce della gloria Egli ha gloria perché è Dio è l'impronta della sua essenza proprio quello che è Dio è Cristo Gesù il figlio rispecchia Dio Padre in ogni dettaglio come divino creatore avendo creato tutto tutto esiste per Lui sostiene tutto anche qui leggiamo e notate nell'Antico Testamento Dio creò come non dice che fece dice disse Dio disse sia la luce sia questo sia quello e fu e fu e fu e nel Nuovo Testamento Gesù taci alla tempesta lui dice la parola sia guarito dice la parola e succede dice la parola non doveva fare dice la parola guariva sia fatto come hai chiesto secondo la tua fede e il servo a distanza fu guarito Gesù è Dio con la parola nell'Antico Testamento creò il mondo con la parola nel Nuovo fece i suoi miracoli Gesù Cristo è Dio e poi nel versetto 3 la seconda parte Gesù ha compiuto la salvezza leggo Egli che è lo splendore della sua gloria è l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza adesso dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di sé stesso si è posto a sedere alla destra del Maestà nell'alto dei Cieli dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati noi arriviamo a Dio sporchi una vita di peccato nasciamo nel peccato e aggiungiamo tanti peccati non c'è modo di lavorare ubbidire abbastanza per essere purificati Gesù ha compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di sé stesso per coloro che credono in Lui e quindi ha pagato Lui il pagamento i nostri peccati richiedono la morte eterna Gesù ha pagato quello sulla croce quando l'ire di Dio fu rivolto su di Lui alla fine le tre ore dell'ire di Dio ha gridato Dio mio Dio mio perché mi ha abbandonato e poi avendo pagato gridò è pagato è compiuto è compiuto il debito è pagato Gesù ha compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di sé stesso Gesù ha purificato e quindi in avanti in ebrei leggeremo dei sacrifici di animali e dice ripetutamente che i sacrifici di animali non possono mai pagare i nostri peccati erano simboli per indicarci quello che serviva che è Cristo adesso Cristo l'ha fatto erano ombre il corpo è Cristo quando Dio aveva creato il mondo dice si riposa allora non è che era stanco non è quel senso però cesta dalla sua opera e Gesù dopo aver compiuto la salvezza si è messo a sedere dove? alla destra della maestà che nella letteratura vuol dire gloria alla destra della maestà era un luogo di gloria Dio non permette un angelo di stare alla sua destra stanno davanti a lui per servirlo ma il figlio sta in gloria come vediamo in Apocalisse che Cristo viene glorificato uguale al Padre perché è Dio e poi dal versetto 4 l'autore inizia a proprio mostrare che egli è superiore agli angeli leggo 4 ancora ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che egli ha ereditato prima domanda scusate cosa vuol dire è diventato è diventato ma non era perfetto prima certo ma in Altrovi dice che ha imparato l'ubbidienza in che modo ha imparato l'ubbidienza era sempre ubbidiente sì ma non aveva mai dovuto ubbidire fino alla morte ha imparato quell'esperienza era diventato era sempre figlio di Dio Dio aveva creato tutto ma non aveva compiuto la sua opera come Cristo quindi in quel senso come l'uomo Dio che prima era solo Dio il figlio ha preso l'umanità e così come l'uomo Dio è diventato tanto superiore agli angeli nel suo ruolo come Cristo che aveva compiuto la salvezza quindi era sempre Dio perfetto glorioso creatore di tutto ma non aveva compiuto l'opera come Cristo ed è più quanto più eccellente di loro è il nome che Egli ha ereditato Gesù il Cristo sempre figlio di Dio ma ha preso il ruolo di Cristo ha preso il nome con l'umanità che ha preso quindi poi dal 5 al 14 tutto il resto del capitolo si confronta il figlio Gesù Cristo con gli angeli perché i giudei come certe persone in Italia cercavano di quasi venerare gli angeli pregare gli angeli innalzare gli angeli così l'autore qui dimostra assolutamente no iniziando con 5 infatti a quali degli angeli disse mai Dio tu sei mio figlio oggi ti ho generato e di nuovo io gli sarò padre e egli mi sarà figlio e ancora quando introduce il primo genito al mondo dice e lo adorino tutti gli angeli di Dio comanda che gli angeli adorino il figlio di Dio perché è sopra di loro 7 ma degli angeli dice dei suoi angeli fa dei venti e dei suoi ministri una fiamma di fuoco del figlio invece dice oh Dio il padre parlando con il figlio lo chiama Dio oh Dio il tuo trono è per i secoli dei secoli lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia tu hai amato la giustizia e odiato l'iniquità perciò Dio il tuo Dio ti ha unto con olio di lettizia al di sopra dei tuoi compagni e ancora tu oh Signore nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani essi pereranno ma tu rimani invecchieranno tutti come un vestito e li avvolgerai come un mantello e saranno cambiati ma tu sei lo stesso e i tuoi anni non verranno mai meno sta parlando al figlio come Dio 13 e a quali degli angeli disse egli mai siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come il scabello dei tuoi piedi e poi parlando degli angeli dice 14 non sono essi tutti spiriti servitori mandate a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza facciamo un elenco degli aspetti in questo brano che dimostrano che Cristo è superiore agli angeli prima solo Cristo è il figlio non gli angeli in 5 infatti a quali degli angeli disse mai tu sei mio figlio oggi ti ho generato e di nuovo io gli sono padri e egli mi sarà figlio a nessuno gli angeli sono servitori Gesù Cristo è figlio di Dio figlio eterno in 6 7 Gesù viene adorato ma attenzione Dio è geloso per la sua gloria non permette mai che si adore nessun altro un gravissimo peccato ma Gesù viene adorato infatti Dio il Padre comanda che venga adorato leggo 6 e ancora quando introduce il primo genito al mondo dice e lo adorino tutti gli angeli di Dio un comandamento di adorare il figlio Cristo 8 a 12 vediamo la divinità di Cristo ancora come sovrano creatore signore di tutto come Dio non cambia mai leggo di nuovo quel 8 a 12 del figlio invece dice parlando con lui come Dio o Dio il tuo trono è per i secoli dei secoli lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia tu hai amato la giustizia e odiato l'inequità perciò Dio il tuo Dio ti ha unto con odio di letizia al di sopra dei tuoi compagni e di nuovo al figlio 10 e ancora tu o signore nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani essi pereranno ma tu rimani i cieli la terra pereranno invecchieranno tutti come un vestito e li avvolgerai li avvolgerai parlando del suo potere sovrano e li avvolgerai come un mantello e saranno cambiati ma tu figlio sei lo stesso e i tuoi anni non vengono mai meno sei eterno credere in Gesù non è credere in un uomo è credere in Dio figlio che ha preso l'umanità notate che in 13 14 parla degli angeli e gli dice che sono spiriti e a quali degli angeli disse egli mai siedami a destra finché io abbia posto i tuoi nemici come il scabello dei tuoi piedi non sono essi tutti spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza una cosa qui gli angeli sono spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza è importante capire questo gli angeli sono serviti che Dio manda a servire per il bene degli uomini che Dio salverà gli uomini non comandano gli angeli non pregano agli angeli non chiedono aiuto dagli angeli chiedono aiuto a Dio Dio manda gli angeli come e quando vuole per il bene servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza quindi noi non centriamo con gli angeli loro centrano con noi ma noi non dobbiamo né sperare né pregare né cercare di comunicare no Dio manda gli angeli a servire per il nostro bene come Dio sceglie grazie a Dio ma non dobbiamo pensare a loro mai nella Bibbia si pensa se Dio manda un angelo sono affari suoi noi preghiamo a Dio Padre Gesù fu chiesto come pregare al Padre nel nome di Gesù Cristo quindi con quello concludo questo capitolo e vediamo che qui si inizia questo libro questa pistola mostrando che Gesù Cristo il figlio è Dio è il creatore che ha compiuto la purificazione dei nostri peccati e poi inizia a mostrare che ogni campo della religione ebraica giudaica Gesù è superiore tutto era un'ombra di Cristo tutti i comandamenti tutti i sacrifici tutte le feste religiose tutto i sacerdozi erano simboli di Cristo parlerà di quello Gesù è la piena rivelazione di Dio Mosè ha dato la legge ma Gesù è superiore a Mosè quindi la legge di Cristo Paolo usa quindi Mosè Dio ha usato per dare la legge per i giudei noi non siamo sotto quella legge noi siamo sotto Paolo dice in modo diretto sotto la legge di Cristo tutto indicava Cristo e quindi noi vogliamo cercare in Colossesi ho letto prima e leggo di nuovo 16 17 poi andremo avanti nessuno dunque vi giudichi vi condanna per cibi o bevandi o rispetto a feste o nove luni o a sabiti queste cose sono ombra di quelle che devono venire ma il corpo è di Cristo l'Antico Testamento l'Antico Testamento è meraviglioso perché ci prepara per Cristo però è solo un'ombra ciò che livella è un'ombra è come la nebbia si vede la forma ma non è precisa quello è il Nuovo Testamento nel Nuovo Testamento abbiamo la piena rivelazione di Dio in Gesù Cristo quindi non si stabilisce doctrina sull'Antico Testamento si usa l'Antico Testamento per conoscere Dio l'Antico Testamento ci spiega più del cuore di Dio del Nuovo tantissimo vediamo il cuore di Dio vediamo tutto quanto quanto serve il Cristo tu legge l'Antico Testamento i giudei erano capaci di seguire la legge la legge stessa dava i sacrifici perché non erano capaci la legge non porta la salvezza e per quello che dovevano fare sacrifici animali perché non potevano obbedire ai comandamenti e dovevano avere un sostituto ma gli animali erano solo simboli del Cristo che doveva venire voglio leggere in Giovanni 1,18 nessuno ha mai visto Dio l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere noi conosciamo il Padre in Cristo il Figlio poi Giovanni 14 6 a 11 Gesù parla di sei e quello che dice ci dimostra che è l'unica via al Padre Giovanni 14,6 Gesù gli disse io io sono la via la verità e la vita nessuno viene al Padre se non per mezzo di me se mi aveste conosciuto avreste conosciuto anche il Padre mio e finora lo conoscete e l'avete e l'avete visto e Filippo gli disse signore mostrici il Padre e ci basta Gesù gli disse da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto Filippo chi ha visto me ha visto il Padre come mai dici mostrici il Padre non crede che io sono nel Padre e che il Padre è in me le parole che io vi dico non le dico da me stesso il Padre che dimora in me è colui che fa le opere credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me se no credetemi a motivo delle opere stesse credetemi a motivo delle opere guardate i miei miracoli un uomo non può fare quello che io faccio guardate i miei miracoli e le opere vengono chiamate miracoli vengono chiamate opere credete in base a quello che faccio chi ha visto Gesù ha visto il Padre quindi non possiamo arrivare a Dio per mezzo di seguire la religione la vera religione la legge di Cristo ci fa vedere Cristo ci fa vedere che la salvezza è aggrappandoci a Lui confidando in quello che Gesù ha fatto sulla croce ricordate adesso ho letto Colossesi 2 16 17 vado avanti 18 a 19 nessuno vi dirubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli fondandosi su cose che non ha visto essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale e non tenendosi al capo da cui tutto il corpo ben nutrito e tenuto insieme mediante le genture le articolazioni cresce con l'accrescimento che viene da Dio nessuno vi dirubi del premio con un pretesto di umiltà nessuno dice dai segui questo bisogna seguire quello e così tu anziché aggrapparti a Cristo cerchi di dare piacere a Dio seguendo le regole stabilite da chi lo dice no no devi aggrapparti a Cristo ma vuol dire che vivi come vuoi no certo c'è la legge di Cristo che abbiamo nel Nuovo Testamento e il corpo aggrappandosi a Cristo cresce con l'accrescimento che viene da Dio di natura vogliamo vedere i valori in noi stessi vogliamo vederci bravi vogliamo poter dire signori grazie sto andando bene vogliamo vederci bene ma non siamo mai bene buoni abbastanza non dobbiamo aggrapparci a rivelazioni sogni visioni profezie dobbiamo aggrapparci alla parola di Dio quello che dichiara Gesù Cristo la piena rivelazione di Dio dobbiamo aggrapparci a Gesù Cristo confidare pienamente in Lui abbiamo la parola di Dio l'Antico Testamento Gesù dice testimonia di me gli apostoli i due apostoli sulla via di Amaus due discepoli lui ha fatto vedere dalle scritture che testimoniavano di Lui ha detto ai giudei i capi dei giudei in Giovanni 5 credo ha detto voi investigate le scritture credendo in essere e avere la vita e la vita essi testimoniano di me ma non venite a me le scritture sono per farci vedere Cristo i giudei volevano aggrapparci alle scritture che per loro era l'Antico Testamento no dimostrano me credete in me venite a me andiamo a Gesù Cristo vediamo in Cristo il nostro Dio e Creatore colui che ci purifica dei nostri peccati questa è la vita cristiana vi incoraggio ad andare avanti in questa pistola prego che questa base vi farà un appoggio per capire passo per passo ricordando i tre gruppi a volte ci sono brani pesantissimi tipo capitolo sei e dieci però poi subito dopo la parte dura tu leggi ma di voi siamo persuasi di cose pertenenti alla salvezza quindi oh non stavo parlando a loro stavo parlando di un altro gruppo e tenete quello in mente leggiamo con cura voglio ringraziare Dio per Gesù Cristo Signore ti ringrazio per Gesù Cristo c'è solo un Cristo c'è solo un Salvatore e tutto l'Antico Testamento ci prepara a riconoscerlo ci parla di chi è di quello che avrebbe fatto tu ci dai tanti simboli tanti comandamenti tanti personaggi che tutti ci indicano il Cristo tutto parziale tutte ombre che alla fine vediamo il corpo in Gesù Cristo vogliamo aggrapparci pienamente a Cristo vogliamo trovare in Cristo la nostra speranza totale aiutaci a vederlo di più a conoscerlo a camminare per fede in Gesù Cristo ti prego questo nel nome di Gesù Cristo tuo figlio il nostro Dio Amen Amen